Grazie al porto si riesce a superare una cisterna di epoca moderna io utilizzavo una precedente cisterna romana il blu fa riferimento alla presenza dell'acqua e ai lati il livello massimo che poteva essere raggiunto nella cisterna c'era anche la botola che come al solito collegava il palazzo al Cilisturino e le nostre teste con la loro riserva d'acqua però il ponte ci permette di entrare nella prima